Per la bomba al centro dell'impiego di Avellino non c'entra il terrorismo. I giudici del Tribunale del Riesame nei confronti dei due indagati hanno annullato l'aggravante di terrorismo ed esclusa la finalità eversiva. I due indagati avrebbero confezionato un ordigno artigianale di elevato potenziale esplosivo e lo avrebbero fatto esplodere all'ingresso degli uffici di contrada baccanico. Nei loro confronti resta l'accusa di danneggiamento e detenzione di materiale esplosivo. Gli avvocati Offiero, Rolando Iorio e Pizza avevano evidenziato come nei confronti dei loro assistiti non erano emersi particolari che potessero collegare i due ad ambienti particolari. Lo scorso 8 luglio Rosso, unitamente al comando provinciale carabinieri di Avellino, aveva eseguito le due misure cautelari in carcere emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura distrettuale antimafia e antiterrorismo nei confronti dei due indagati gravemente indiziati di aver fabbricato, portato il luogo pubblico e fatto esplodere in concorso fra loro per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico un ordigno artigianale di importante potenziale esplosivo. Ieri nei loro confronti è stata annullata l'aggravante di terrorismo. Ieri nei loro confronti è stata annullata l'aggravante dell'aggravante 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 dell'aggravante.